La storico, devo dire, che le aviazioni del nord e del sud hanno avuto un significato simbolico. Importante ma simbolico, cioè tengo la bandiera, però dal punto di vista bellico, ininfluenti, sia quella del nord che quella del sud. Cioè lì la storia bellica della nostra aeronautica finisce con l'8 settembre di fa. Abbiamo svolto le nostre opere con pochi risultati concreti, perché insomma noi ne abbiamo avuto di giù di parecchi alleati da bombardamento, però insomma la pulce sull'elefante. Abbiamo dato un po' di fastidio agli alleati, direi mai niente di più. E' l'agio che non eravamo forti, però si era costituito un bel sviluppo. La nostra squadriglia quasi è completa con quelli da Roma in su, per forza. E' il Maggiore Visconti un splendido esempio di valoroso. Questo non prescinde assolutamente dagli atti di valore che poi sia da una parte o dall'altra possono avere fatto, ma non corrisponde a un valore militare insensolato. Ecco, questo bisogna dirlo perché credo che sia la verità, o perlomeno, ripeto, si avvicini quanto più possibile alla verità. Senza, qui, ripeto, il tema poi è che non bisogna dare giudizi di valore in queste circostanze. Cioè credo che sia un errore. Giudizi di valore nel senso hai fatto bene, hai fatto male. Perché questi bilanci sono sempre molto individuali. Sì, noi della Repubblica abbiamo fatto quello che potevamo. Più di così, con i mezzi che avevamo non potevamo fare.